Re buongiorno, io volevo parlare di un paio di cose, di quello che è successo a me e di quello che è succedendo su YouTube. Io devo ringraziare ancora una volta chi mi ha tirato le orecchie, mi ha ricordato che stavo diventando astioso, stavo diventando un po' cattivo a perdere. Perché purtroppo io sono un essere umano, non sono infallibile, anzi, e soprattutto anch'io risento dello stress e tutto quanto. Se ho cominciato a risentirne io, dal punto di vista psicologico e a cambiare anche i miei toni, io devo sempre ringraziare chi mi ha ricordato che prima era un'altra cosa e soprattutto usavo un'altra terminologia. Io immagino chi ha magari meno controllo. Ed è anche un motivo, da dico onestamente, se il signor Simone Namorgese vuole scrivermi c'è la mail del canale, è unbebercoviz.com, se vuole parlare con me ci parliamo. Perché io non l'ho buttato fuori per quello che ha detto, ma per come lo ha detto e per le minacce che conteneva. Perché se guardate, gli altri commenti di critica non li ho tolti. È solo per chiarire questo punto. Però mi sto accorgendo di una cosa. Mi sto accorgendo che non è solo una mia impressione che YouTube stia cambiando e non stia cambiando in meglio. Io infatti già dico questo video, per sicurezza non lo monetizzo, perché almeno posso dire quello che penso. Altrimenti, state pur certi che siccome toccherò qualche vacca sacra, YouTube mi spezzerà le gambe. YouTube si è sempre vantata di essere una piattaforma in cui uno può esprimere se stesso. È una frase fatta, non è mai stato così, vabbè, ci sono delle norme, va bene. Però adesso queste norme stanno diventando comiche. Stanno diventando comiche e stanno diventando ipocrite. Faccio un banalissimo esempio. Ieri sera Alessandro Masala ha posto un video in cui parla ancora del problema degli uguri. La minoranza cinese di religione musulmana, che viene vessata, sto usando un termine estremamente leggero, viene trattata come venivano trattati i cambogiani ai tempi di Pol Pot, e finalmente qualcuno si è svegliato. Si è svegliata l'America, l'Europa ovviamente fa quello che riesce a fare di solito, cioè dorme o aspetta che l'America si svegli, e hanno incominciato ad agire a livello di sanzioni, che sapete che sono quello che sono. I su YouTube girano dei video di propaganda, fatti dal governo cinese, stile Corea del Nord, che sono vergognosi. YouTube questi video non li butta giù. Anche se si vede palesemente che la persona che viene intervistata, che dice che si sta benissimo in quelle zone, certo, andate a intervistare un ebreo d'Auschwitz nel 44, che vi veniva a dire che nei campi di concentramento si stava da Dio. Guardate che non sto usando un'esagerazione, non sto esagerando in questo caso. YouTube non fa niente in questo senso, niente. però ha demonetizzato tutti i video in cui Masala ha parlato di questa cosa. Però continua a farmi vedere le pubblicità di TikTok, che è un'azienda cinese, che evidentemente paga molto e quindi va tutelata. Però mi fa vedere le pubblicità dell'Arabia Saudita, in cui ci sono donne a cavallo, evidentemente quello che c'è il saccasso oggi non conta un cazzo. Io non sono un politico in questo senso. Capisco che la politica vola più in alto, o meglio più in basso, del ragionamento e del buonsenso, e anche dell'etica e della morale. Macron che dà la legione d'onore a Al-Sisi, non lo fa perché gli è simpatico a Al-Sisi, lo fa per interessi economici, lo sappiamo, è inutile scandalizzarsi. L'ho detto, la politica, come disse Rino Formica e sangue merda, non è qualcosa di elevato. Non facciamola diventare così. La politica elevata sono anni che non si vede, forse decenni. Però si avrà il diritto di denunciare le violazioni di diritti umani. O funziona solo per una determinata parte. O si possono denunciare solo determinate cose e altre no perché lo sponsor si incazza. E' questo che YouTube sta diventando sempre più una questione di family friendly. Ma non nel family friendly che vedete qualcosa da far solo per i bimbi minchia. E' un altro discorso quello. No, non si devono toccare certi argomenti. Per cui io fino a poco tempo fa avevo la dashboard con dentro canali suggeriti, video suggeriti di politica. Potevo essere d'accordo o meno. Mi suggerivano anche video di complottisti. Non mi interessa. Però erano almeno nell'ambito di quello che controlla. Adesso mi sono trovato nella dashboard canzoni neomelodiche napolitane. per carità. A me il neomelodico era peggio del neomelodico per me c'è solo la trap. Però è un gusto personale. Non vado a criticare chi ascolta il neomelodico. Scelta sua, ovvio. Ma comunque non è il mio campo. Video di calcio ne avrò visto uno. Giacomino ogni tanto ne guarda qualcuno ma da quello a rinfilarmi dentro di tutto e di più no. E cose di questo tipo che non c'entrano un cazzo con quello che guardo normalmente. Però sono andato così per cui si dava detto vado a rivedere vecchi c'erano dei film su YouTube film che hanno oltretutto una datazione preistorica. La Grande Guerra è sparito. Perché? Copyright per un film di quell'età ci può anche stare. Non so, secondo me siamo al limite del tempo del copyright ma comunque è sparito lo spettacolo di Paolini. quello dico a Gianluca il canale della Dama Rossa la Claudia è stato buttato giù stamattina chiuso da YouTube non buttato giù il video chiuso da YouTube per violazione di copyright. Questa signora pubblicava film ricaricava film vecchi di 50 anni non dell'altro giorno ma di 50 anni. Alcuni di quei film lì non li compra neanche perché sono dei trascioni italiani che ma manco se ti li regalano li compri. quindi che danni faceva? Nessuno siamo sinceri non faceva nessun danno però ha buttato giù violazione dei copyright è perché il copyright è sacro però mi raccomando video in cui si bestemia e li lasciamo lì video con bimbi minchia e li lasciamo lì video in cui non si parla di niente di impegnativo li lasciamo lì lasciamo lì anche gli insulti stamattina guardo il video di quotidiano.net sulle chiusure in Germania beh ovviamente i dislike erano astronomici rispetto ai like perché ogni volta che si parla dell'emergenza sanitaria si sa come funziona ormai la stampa italiana e secondo me anche giustamente in un certo senso è vista come come l'untore guardo nei commenti solite discussioni tra chi ragiona e chi la spara più grossa chi tira in ballo satana perché tanto lui non deve mettersi c'è un commento in Germania dovrebbero fare ve lo cito quasi testualmente in Germania dovrebbero prendere ancora le mitagliatrici e usarle come facevano contro gli ebrei questo è il commento non era stato segnalato niente l'ho segnalato io a youtube di un commento in cui si incitava la violenza dei tempi del nazismo non fotteva un cazzo scommetto che se invece della parola ebrea ci fosse stata la parola con la n io mi immagino i canali spagnoli che si dice così in spagnolo non si può dire in un altro modo che casini devono avere con youtube con l'algoritmo scemo di youtube perché l'algoritmo di youtube ha l'intelligenza di un bambino subnormale scusatemi il paragone ma veramente è l'unico che mi viene in mente è molto cattivo lo so ma ci sta in questo caso youtube non ci fa neanche caso queste cose cos'è si può essere se è razzista solo se si tocca una certa parte ma l'altra la puoi toccare perché di commenti antisemitia ne raccatta tonnellate su youtube ma non mi risulta che youtube parta lancia in resta a colpire quei canali frega un cazzo però ragazzi non vogliamo i copyright però ragazzi mi raccomando non parliamo di quello che sta facendo la Cina perché la Cina ci paga la pubblicità di tiktok non parliamo di quello che ha fatto l'Arabia Solita cazzo oggi perché ci deve pagare le inserzioni pubblicitarie non parliamo di non tocchiamo l'alta finanza perché io vi devo infilare in tre per due lo spot di qualche cazzo di agenzia di trading con cui sinceramente io mi ci pulisco ecco l'avete capito piuttosto che mettere in mano i soldi a sta gente lo dico onestamente se io vedo la pubblicità in cui c'è gente che sorride con un'espressione veramente ebete figuriamoci quanto mi posso fidare però quelli vanno bene andavano bene le pubblicità dei siti per incontri con immagini prese da siti porno non sto esagerando adesso magari è un po' che non le vedo ma fino a c'erano proprio immagini prese da siti porno con azioni specite coperte dal bollino stile regola 34 in Giappone vabbè quelle vanno bene ma non parliamo di cose serie mi raccomando in tendenza ci devono andare le puttanate in tendenza su youtube ci devono andare le scemenze l'algoritmo deve prediligere le scemenze le cose poco serie le argomentazioni poco serie le stupidaggini perché se appena appena tocchi un argomento serio youtube ti infila in fondo la categoria ti infila in fondo il lavandino perché ricordiamoci per youtube l'intelligenza media dell'utente di youtube secondo youtube è quella di un babbuino vagamente istruito perché è così che considerano le persone perché io la vedo vedo questo vedo e qui non è un discorso di violazione delle regole della community o qui o là questo video ve lo dico se youtube a causa di questo video mi butta giù il canale sapete che non lo riapro mi prendo la responsabilità di quello che dico però lo faccio da piccolino in difesa dei canali grossi a cui questo video non arriverà mai ma mi sono un po' stufato sinceramente di vedere i pochi canali guarda ci metto dentro anche quello del professore che io critico sempre che lo attacco sempre però lo dico onestamente anche il suo canale viene penalizzato anche il suo canale viene penalizzato da youtube perché? perché youtube in tendenza ci mandi canali che parlano di cazzate non ce l'ho con quei canali se tu vuoi parlare di calcio parli di calcio va benissimo ma trovo quanto meno discutibile che se tu mentre parli di calcio tiri dei bestemioni va tutto bene spacchi le cose va tutto bene ormai ci sono youtuber che hanno come caratteristica o lanciare gli oggetti per casa urlare come pazzi picchiare sulla scrivania ogni 3x2 perché fa figo e sotto i commenti sono di quell'intelligenza superiore dal non ho mai mollato il video di picco pallino così in fretta oppure quella scrivania lei merita cioè tu che sei responsabile perché non dice mettete nei commenti un filo più intelligenti no va benissimo così i canali che provano a dire qualcosa a informare o altro youtube te li sbatte in fondo e guardate che io nell'ammazzo ci metto anche i canali che a me fa venire l'orticaria come Bialou sapete il 90% di quello che dice io ho dato che con le pinze dice di quelle cose che mancano solo i rettiliani nel mucchio però io difendo anche il diritto di Bialou di dire quello che vuole finché non fa danno perché comunque è meglio un canale che dice delle cose che tu su cui tu puoi dibattere invece di un canale che non dice un cazzo youtube privilegia gli scherzi le stupidità quelli che privilegia sempre quando si toccano determinati argomenti no vi faccio notare l'integrità morale di youtube ci sono stravalanga di canali crime in cui non si offendano le signore e i signori che li seguono però mi ricordano molto i tizi che si fermano a guardare gli incidenti per le macchine e vede se c'è morto quasi e anche ci sollazzano nella descrizione della tragedia a volte con lo stile di lucarelli cioè che è meglio del valium a volte con quella pruriginosa fissazione che hanno gli esseri umani verso le tragedie ma ci sta e va bene questi cani va bene anche perché fanno una cosa molto semplice generalmente tendono a monetizzarsi quelli che però alcuni si monetizzano e per youtube va bene che prendi delle certe cose anche se ti tirano 40 minuti di video con due coioni così perché veramente uno di questi lo seguivo volentieri ma adesso guardiamo il suo video è come sentirsi una conferenza di venditori di 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 cintiernari che ragazzi due coglioni che non finiscono più ma va bene quelli lì vanno bene te li spingono su ma non parliamo non parliamo di cose serie non parliamo di quello che è successo in Cina non parliamo di quello che è successo a Giulio Regeni non parliamo di quello che sta succedendo in Italia non parliamo di cose che possono urtare la sensibilità perché youtube considera non so sta diventando una piattaforma che considera i suoi utenti dei bambini a cui devi comunque dare la caramellina al ciupa ciupa e farli vivere in un mondo cristallizzato è questa però colpisce come ho detto quella signora non faceva niente di male la prendo come esempio per dire che stava caricando roba che non frega un cazzo a nessuno e che se non la trovi su youtube o non la trovi in altri siti di streaming possibilmente non pieni di virus da far paura non si non la va a comprare quella roba ma ragazzi il copyright e il copyright è sacro faccia notare youtube un'altra cosa il casino che accade due anni fa con Logan Paul che andò a fare lo spiritoso davanti a un suicida non è stato youtube a buttarlo nel canale ha buttato giù il video non ha buttato giù il canale no sono stati gli utenti a segnalarlo se no per youtube quel video andava bene quel video era la fotocopia di quello che fanno barbareschi e colleghi in cannibal holocaust la stessa identica cosa in cannibal holocaust fanno gli spiritosi davanti a una donna impalata e questo che ha fatto lo spiritoso davanti a una persona che si è tolta la vita in una in un range di logica di intelligenza tu non è che gli demonetizzi il canale glielo chiudi e glielo chiudi in modo definitivo non gliela gli ha solo dato una demonetizzazione ma dopo un po' è tornato a riguadagnare come un po' perché gliela rimessa però però mi raccomando non parliamo delle tragedie umane non parliamo delle tragedie serie non parliamo che ne so del fatto che in Etiopia c'è una guerra civile che dura dal 90 anzi facciamo anche da prima non parliamo di quello che ha deciso di fare la Turchia che sta decidendo di fare la Turchia non parliamo di questo non parliamo dell'epidemia non usiamo il termine covid perché se usi quel termine lì immediatamente tu demonizza il video perché non sia mai che uno parli di una cosa seria perché dall'altra parte c'è un algoritmo che non distingue una rapa da una lavatrice no youtube deve essere qualcosa di infantile in questo senso non si deve ne parlare di queste cose perché mette sullo stesso piano un video di uno che parla dei rettiliani della terra piatta con uno che fa scienza o che cerca comunque di argomentare o che porta dati li mette sullo stesso piano e se tu ti rivolgi a un revisore spesso quel revisore ha la licenza elementare non conosce la tua lingua o se la conosce la conosce a quel culo e quindi segue il prontuario che gli viene dato quindi ragazzi non lo so tutto questo discorso è che ci stavo finendo dentro anch'io ci stavo cadendo dentro anch'io in questo modo di fare quindi la volgarità inutile stavo diventando come le persone che attaccavo che è la cosa più grave anch'io mi basavo sulla faciloneria se devo discutere con qualcuno ci argomento ed è una cosa ma se devo scadere nella faciloneria della battuta greve allora io per primo sto sbagliando per cui l'ho detto se Simone Lamorgese vuole scrivermi c'è la mail e io dico se il professore vuole confrontarsi sul reddito c'è la mia mail mi può scrivere e ci possiamo confrontare senza per questo fare un video insieme perché in video collaborazioni sarebbe problematico ma ci possiamo confrontare e poi magari nel suo canale riporta le mie opinioni se vuole io stavo scadendo nell'altra parte stavo diventando uno youtuber che si di tipo infantile che la butta in cacciara e io non sono così come persona non sono così come persona non mi ci fa stare neanche bene essere così come persona però se ha fatto se sono ho avuto questa deriva ma anche perché anch'io risento dello stress anch'io risento della depressione anch'io sono stanco di questa situazione anch'io sono stanco di vedere il mondo che sta andando in briciole e i governanti che sostanzialmente passano il tempo o a rimparlarsi di responsabilità o a discutere dell'aia fritta ci sono paesi che stanno agendo purtroppo nel mio non ho realetto ancora Netanyahu però probabilmente non ha la maggioranza quindi ci sarà da andare a votare una quinta volta ecco in quel caso lì perché il covid non tira dritto ma purtroppo si è vaccinato quel porco vabbè oppure non sono capace di fare il loro lavoro speranza è un esempio plastico di una persona che è lì e non dovrebbe essere lì ragazzi ho fatto un video di 20 minuti scusatemi è già una tirata lunga io vorrei solo ricordare una cosa youtube delle parole banalissime e scusatemi se il fiat è quello che è settembre 77 portale is a bit weather fine it's business as usual in police room 619 oh bico 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 ecco se il giornalista che ha portato alla luce quello che ha caduto Steven Bico avesse lavorato come lavora youtube su certe cose ci sarebbe ancora l'apartheid in Sudafrica io vi saluto ciao a tutti